Lezione in Italia. Che colore è Gesù Cristo? Cosa dice la Sacra Bibbia? Secondo la Sacra Bibbia, il suo pelle sembrava ottone bruciato, sembrava un uomo nero, non sembrava un uomo bianco. Mi permita di leggere il libro dell'Apoclese capitolo uno, versetto quattordici e quindici in inglese. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. La sua testa e i suoi capelli erano bianchi come la lana, bianco come la neve, e i suoi occhi come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi come ottone bruciato, come ottone bruciato. Guarda questa immagine. Non ha i capelli bianchi e la nosi. Non ha i capelli bianchi e la nosi. I suoi occhi non sono rossi come il fuoco. Non sono rossi come il fuoco. La sua pelle non è del colore dell'ortone bruciato. Questa è una bugia. Grazie per l'ascolto. A dopo.